Un buco nero sulla porta troverai dove la mano infilerai Ciao ragazzi, siamo venuti in questo nuovo video Oggi vi porto all'avventura, ma più nello specifico andiamo alle cascate del Bucamante in provincia di Modena Ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo Grazie a tutti Ma papà, perché una mia amica ha detto che sono in accappatoio e poi non posso neanche guidare? Anzi, a proposito, se non avete visto il video del drifting, ve lo lascio qua sopra da andare a vedere Ecco, ci arrivate alle cascate del Bucamante Mentre ero in viaggio mi è venuto in mente che ho fatto l'upgrade dell'applicazione Geocaching Ovviamente i Geocaching saranno più belli del primo video che intanto vi lascio qua sopra da qualche parte da andare a vedere Andiamo a cercare il Geocaching, ma nel frattempo vi faccio vedere anche come sono le cascate del Bucamante Abbiamo preso il percorso blu che si chiama Odina Pensate che ci stiamo avvicinando al Rusciano Stiamo andando in discesa Mamma mia Oh, 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 oh fire Ecco le prime cascatine Ecco le prime cascate del Bucamante Oh, 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 yeah, yeah Buon pobo, buon pochiaia bello Ecco una delle cascate abbastanza grosse Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Qui c'è il segno del percorso che non ci perdiamo Siamo sul percorso giusto Adesso ho un gemmo giù Ancora non riusciamo Questo è cascato Il collino è bello Ancora non riusciamo Ancora non riusciamo Ecco ci siamo arrivati al primo step Dove troverò le coordinate O per il geocaching oppure per il secondo step E l'indizio mi dice Il masso alto dovrai scalare Credo che sia questo È alto Andiamo scalando Per voi è passato un secondo Ma io ci ho messo 10 minuti a trovare le coordinate stampigliate Sono scritte qua sopra a qualche parte Ma non vi dico dove perché sennò il gioco è già fatto C'è un gioco è un gioco C'è un gioco E un gioco Oddio ci sono anche dei legni che si spostano Oddio ci sono anche dei legni che si spostano C'è un gioco C'è un gioco C'è un gioco Stiamo arrivando alle seconde coordinate Mamma mia sei ripido C'è un gioco Oh Che bella cascata Cascatina Oh un altro punticello Un po' rotto ma Andiamo sul punticello Anche se è un po' rotto Eh però bisogna passarci lo stesso per forza Musica è fantastico guardate quanto muschio è bellissima e poi se guardate c'è un po di bianco quindi è calcarea vedo che stiamo arrivando le coordinate di prima ma vedo che c'è il geocaching quindi probabilmente ci sono il geocaching guardate che belle si chiamano le travertine continuiamo il geocaching mi deve tornare un po' più tardi guardiamo adesso no raga cascate bucamante vecchio serbatoio acquedotto in disuso lì dentro e il geocaching mi dice che devo andare qua dentro no ma io non ce l'ho mai andiamo a vedere l'indizio l'indizio dice un buco nero sulla porta troverai dove la mano infilerai sono senza parole non so ci rifletto un po su se cercarlo lì se no niente allora ragazzi ho deciso purtroppo di mettere la mano qua dentro però mi raccomando dovete spaccare il tasto like ma spaccarlo e anche il tasto iscriviti adesso andiamo a mettere la mano qua dentro ok eccolo eccolo trovate eccolo 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 qua andiamo ragazzi cosa ho trovato però ve lo faccio vedere dopo quando ho letto il bianco tanto andiamo a leggere il biglietto andiamo a leggere allora questo tesoro tu hai trovato ma come tutti tu devi lasciarlo metti la tua firma ok prenderai tanta sfortuna avrai allora l'ultimo è stato il 21 luglio 2021 poi c'è batman bene vabbè andiamo a vedere se veramente ci sono ah si ah si che come 5 euro però li lascio o li tengo ma sicuramente li lascio perchè non voglio avere questa fortuna quindi andiamo lì a riposare ho firmato e adesso riposiamo tutto dove era prima ci sono i soldi eh rimessi e andiamo a rimettere anche subito e andiamo a rimettere anche subito e andiamo a rimettere anche subito ok andiamo a rimettere ancora la mano la dentro ok messi oddio si è incostrata ecco ecco lasciati e niente anche questo video finisce qua belle le cascate anche il geocaching pauroso soprattutto spaccate il tasto like per questo geocaching e per le cascate bellissime iscrivetevi al canale che è la cosa più importante da fare e attivate la campanellina per sapere l'uscita del mio video e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao abbiamo preso il percorso blu ecco com'era eccoci arrivati alle prime e aspetta com'era e l'indizio mi dice e l'indizio mi dice il telecamera mi dice cadere ciao 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 Grazie a tutti.